buongiorno carissimi amici di light channel e ben ritrovati oggi è sabato 19 marzo ed è anche la festa del papà quindi auguri a tutti i papà oggi che sabato c'è un bellissimo salmo per noi il salmo 40 i primi tre versetti è un salmo di davide e dice ho pazientemente aspettato il signore ed egli si è chinato su di me ed ha ascoltato il mio grido mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione dal pantano fangoso ha fatto posare i miei piedi sulla roccia ha reso sicuri i miei passi egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico all'ode del nostro dio molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel signore se ripenso a quante volte questo testo mi ha sostenuta nei momenti più difficili più bui della mia vita sapete quando vi sembra di affondare proprio in un pantano fangoso come dice davide e lui è stato la mia roccia su cui ho potuto posare i miei piedi come esseri umani è difficile avere pazienza in quei momenti e aspettare che arrivi la quiete dopo la tempesta come esseri umani è difficile avere fede nei momenti di crisi in quei momenti in cui sembra non esserci via d'uscita probabilmente anche tu starai attraversando affrontando un periodo di crisi economica sentimentale o morale ma di qualunque tipo essa sia sappi che se metterai le tue speranze in gesù confidando in lui lui ti trarrà fuori dalla tua crisi cari amici impariamo a non disperare ma a sostituire i nostri pensieri più negativi i nostri pensieri da pessimisti e da perdenti con la lode a dio e vedremo accadere miracoli nella nostra vita chiediamo a dio di trasformare le nostre preoccupazioni in lode a lui di cambiare il nostro dolore in gioia e gli altri vedranno dio operare nella nostra vita cari amici oggi che la festa del papà tra l'altro ricordiamoci del nostro papà che ci ha creati e che ha cura di noi in questo modo meraviglioso un abbraccio a tutti voi nel signore